Il maltempo s'accanisce sulla provincia anconetana, resta alta l'allerta nel Pesarese. Piove dentro il campus e scioperano gli studenti del Mamiani. La provincia garantisce nuove risorse per riparare le infiltrazioni nelle scuole superiori. Riceci, nuovi documenti di Aurora portano un'altra fumata grigia dalla conferenza dei servizi. Parco San Bartolo e Parco del Conero insieme, accordo per una direzione comune. Buonasera a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV, ben ritrovati al nostro spazio informativo serale di Rossini News. Il telegiornale di giovedì 19 settembre, una giornata caratterizzata da questa allerta meteo arancione per criticità idrauliche e idrogeologiche in tutta la regione Marche. Un'allerta meteo che si accanita con danni nella provincia anconetana, ma anche nel Pesarese ci sono state criticità, seppure più tenui, pesarese dove si mantiene alto lo stato d'allerta. Il giovedì d'allerta meteo arancione sulle Marche si accanisce sulla provincia anconetana fra lagamenti, strade trasformate in fiumi di fango e centinaia di interventi dei vigili del fuoco. Criticità anche nel Pesarese, a cominciare da Monbaroccio, dove l'Arzile è esondato nella notte rendendo off-limits per diverse ore l'area industriale. Territorio di Monbaroccio che è stato anche l'unico a chiudere le scuole preventivamente nella giornata di questo giovedì. Situazione che è andata invece peggiorando nel pomeriggio odierno a Fano, nella zona di Ponte Sasso, dove c'è stata l'esondazione del rio Crinaccio e del rio Marsiliano. Situazione che ha causato allagamenti sulla statale, compreso il sottopasso, coinvolgendo anche diverse abitazioni private. A Pesaro, problemi nella zona di Santa Veneranda, dove è crollata una quercia su due auto e su un cancello di un'abitazione, e alberi caduti anche nella parte di Ponte Valle. Nel mattino si è allagato il sottopassaggio della stazione ferroviaria al pari di garage d'abitazione come quelli mostrati in questa segnalazione dalle quartiere di Vismara. Diversi gli smottamenti dalla zona di Santa Colomba al San Bartolo, dove è stata chiusa parte della strada provinciale e dove sono cadute piante al pari di Via Goito e Via Tolmezzo. Attese piogge anche per domani, in un venerdì 20 settembre, in cui l'allerta si ridimensiona da arancione a gialla. E anche ieri, fra le immagini di maltempo mostrate, vi abbiamo fatto vedere anche la situazione del campus scolastico di Pesaro, allagato in più punti a causa delle strutturali infiltrazioni d'acqua che da anni deteriorano gli edifici. Una situazione intollerabile per gli studenti del Mamiani, che oggi hanno deciso di scioperare. Sono un centinaio gli studenti del liceo Mamiani che questa mattina hanno protestato a Pesaro, davanti al distaccamento del campus di Via Nanterre, per lo Stato in cui versa la struttura scolastica, a seguito del maltempo, alla fine di denunciare le criticità di quest'ultima alla provincia. La scuola è messa in questa condizione da veramente tantissimi anni e nessuno fa nulla per risolvere la situazione. Io penso che sia improponibile andare a scuola con acqua che cade dal tetto, dove la gente cade per le scale, scivola, rischia di farsi male, dove i sottopassaggi sono allagati, la gente deve passare in mezzo alla strada, senza strisce, rischiando comunque fondamentalmente la vita, perché basta un attimo che un automobilista non si ferma e venga investito, dove palestre a Unemania saranno inagibili e quindi molte persone devono cambiare il programma giornaliero. Io penso che comunque si debba risolvere una situazione del genere, perché appunto ho detto sono anni che così, ma nessuno fa mai niente e io ho detto se non ci facciamo sentire noi, chi si deve far sentire? Alla fine gli studenti diciamo che non hanno mai fatto una protesta del genere, sono sempre lamentati, ma sono sempre stati voci solo di corridoio e quindi ho detto diamo una voce a questa scuola. La richiesta è di farci ascoltare dalla provincia e di far mettere a posto questa scuola. Io non dico che deve essere una cosa che debba essere fatta nell'immediato, perché so che non è una cosa possibile nel giro di due giorni, però almeno che si cominci qualcosa, perché non si è mai cominciato nulla, almeno la forza di volontà nel cominciare. Ieri alla fine il sottopassaggio era stato diciamo svuotato, stamattina era nuovamente pieno, si stava riempiendo perché c'è una crepa nel muro e sta venendo giù tutta l'acqua. Nonostante ciò, essendo allagato, io sono dovuta passare in mezzo alla strada, perché ovviamente non posso bagnarmi e poi rischiare di ammalarmi, di bagnarmi praticamente i piedi e gambe. Tisaggi e problematiche che vengono riconosciuti anche dal preside dell'istituto, Roberto Lisotti, che afferma di come non sia la prima volta che queste criticità vengono fuori. La situazione è che abbiamo molti corridoi che si allargano, noi stiamo cercando di pulirli continuamente con le nostre attrezzature, anche qualche aula, due o tre, alcuni laboratori. La situazione non è certamente di gravità assoluta, però è un forte disagio per tutti. Quest'anno le cose sono un po' peggiorate, già dalla pioggia di sestate, le ragazze non c'erano, sono aumentate le infiltrazioni su degli infissi, su delle situazioni di guai staccate, su queste cose la provincia ci sta lavorando, però il problema è anche strutturale, sono infissi molto vecchi che richiederebbero una mutazione continua, che in questi anni è stata fatta solo parzialmente con interventi tampone, quando le situazioni sono come queste, emergenziali, la situazione diventa di estremo disagio per tutti. Capisco il disagio dei ragazzi, la manifestazione mi sembra civile, quindi in questo punto di vista positivo, almeno finora, capisco il loro disagio, il disagio delle famiglie, siamo in continuo contatto sia io che gli altri presidi del campus, perché questa situazione riguarda un po' tutte le scuole, ma soprattutto queste qui del campus, sperando che si trovi una soluzione strutturale in tempi veloci. Questa scuola è vecchia, costruita con criteri che sono dal punto di vista del clima, il microclima interno e delle possibilità di infiltrazioni, secondo me, sono molto negativi, e quindi il problema, purtroppo se non si interviene in maniera radicale, ogni anno, ogni pioggia forte, si ritroviamo in queste condizioni. Lo sciopero degli studenti si è poi trasformato in una manifestazione presso la provincia di Pesaro e Urbino, che non si è tirata indietro dal confronto con le rappresentanze studentesche, palesando difficoltà a monte della struttura stessa della provincia per reperire risorse, ma anche che c'è una pianificazione in corso per porre rimedio ai problemi del campus. Dallo sciopero fuori dal campus scolastico divenuto sempre più vulnerabile ai facili allagamenti, la mattinata di protesta degli studenti dell'Iceo Mamiani si è spostata sotto la sede della provincia di Pesaro Urbino, ente deputato alla manutenzione ordinaria delle scuole superiori. Un sit-in civile con i rappresentanti di istituto ricevuti dal presidente Paolini e dal direttore Domeni Cucci in un confronto esplicativo animato dalle migliori intenzioni a risolvere la situazione. Non abbiamo soldi per l'ordinaria amministrazione. Io quello che ho detto ai ragazzi, anche quest'anno lo Stato ci ha tagliato 750 mila euro, poi ci taglierà 750 mila euro nel 2025 e 350 mila nel 2026. Quando la tesoreria dello Stato ha riconosciuto che tutte le province italiane i costi che hanno montano a un miliardo di euro per l'ordinaria manutenzione, per la viabilità, per tutto. Purtroppo non ci sono soldi e ci sono soldi solo per interventi straordinari. Il campus è una situazione critica che da molti anni e adesso noi faremo degli interventi, ma non degli interventi tampone, ma con i pochi soldi che abbiamo faremo delle soluzioni definitive in alcuni settori, come può essere il tetti, come può essere le imposte, eccetera, eccetera. Il campus purtroppo era rimasto fuori dalle risorse del PNRR e oggi è diventata, l'ho già detto anche ai ragazzi, la priorità assoluta per l'amministrazione provinciale in termini di edilizia scolastica. Quindi io ho già detto anche ai miei dirigenti dell'edilizia che l'obiettivo primario anche per i prossimi anni è quello di andare a intervenire sul campus scolastico di Pesaro, non con interventi tampone, ma con interventi strutturali definitivi che eliminino soprattutto questo problema delle infiltrazioni d'acqua. Poi adesso noi dovremmo riscuotere delle risorse che derivano da alcune alienazioni e circa un milione di euro, abbiamo già deciso insieme anche con l'amministrazione e con il Presidente, le destineremo a interventi sul campo scolastico. Non è una cifra enorme, però ci permetterà di fare dei primi interventi, tanto che io ho chiesto proprio anche questa mattina ai dirigenti dell'edilizia di elaborare subito dei progetti relativi alle situazioni di maggiore difficoltà che danno più problemi da un punto di vista proprio delle infiltrazioni. Quindi cercheremo di intervenire intanto con queste risorse qui per fare dei primi interventi definitivi, non tampone, perché poi l'intervento tampone dopo un po' riporta il problema in evidenza e non lo risolvi mai. Poi andremo alla ricerca, una volta che avrò in mano questi progetti, anche di risorse, andremo a contattare il Ministero, la Regione, vediamo, cerchiamo di muoverci per intercettare ulteriori risorse. Altra cosa, sta scadendo il contratto di Global Service, noi abbiamo una società che ci gestisce la manutenzione degli edifici e il contratto calore, sono in corso delle proposte di project financing, io anche alle ditte che sono venute qui, che ci presenteranno i progetti, ho detto che la priorità assoluta, perché loro faranno anche, proporranno degli investimenti, è comunque il campo scolastico di Pesaro. Quindi c'è già un inizio, una strategia, diciamo, per andare nella direzione di cercare di risolvere in maniera definitiva i problemi del campo scolastico di Pesaro. Io, quello che ho detto, è che la protesta dovrebbe essere rivolta più che la provincia, ma è giusto che ci sia nei confronti della provincia, perché è il primo interlocutore di un meccanismo che poi arriva fino a Roma, ma la protesta dovrebbe essere fatta. Io andrei con loro, anche con loro, a protestare direttamente a Roma sotto gli uffici del Ministero della Pubblica Istruzione. E proprio in provincia, sotto la pioggia, si sono accavallati più presidi. Da una parte quello inatteso degli studenti, dall'altra quello annunciato da giorni per quanto riguardava i comitati contro la discarica di riceci. Comitati che oggi attendevano un no tombale all'autorizzazione del nuovo impianto speciale di rifiuti nel territorio petrianese, e invece sono arrivati altri ricorsi da parte della società Aurora che allungano ulteriormente questa telenovela. Doveva essere la conferenza di servizi decisoria orientata al no all'autorizzazione alla discarica riceci e nel pomeriggio è infatti arrivata la bocciatura al progetto. Quella di oggi è stata però anche un'altra seduta in cui Aurora SRL ha presentato nuova documentazione che apre la strada possibili nuovi ricorsi nonostante il diniego sulla realizzazione dell'impianto di rifiuti nel territorio petrianese. Una riunione in via telematica che per l'occasione ha radunato le rappresentanti di tutti i comitati contrari alla discarica, riuniti sia presidio dell'ingresso dell'amministrazione provinciale. Quello che è accaduto stamattina è semplicissimo. Come prevedevamo, Aurora ha presentato nuova documentazione, quindi per andare avanti, è già stato annunciato il ricorso, quindi sappiamo che quella di oggi è una puntata, ma la serie è continua e avremo delle nuove puntate, purtroppo. Una puntata che confermerà il diniego ovviamente da parte della conferenza dei servizi e che però prelude appunto a un ricorso con nuova documentazione, quindi con nuove riunioni, nuovi tempi e nuove decisioni da prendere. Stamattina sono stati presentati, mi hanno detto, ulteriori documenti da parte della società che ha intenzione di fare questo impianto, però come abbiamo detto basta, non è che noi possiamo rinviare per poi ripresentare documenti. Aurora procederà con una serie di ricorsi, per cui noi siamo pronti e continueremo a far valere la nostra voce contro questo progetto che ricordo vuol nascere a poca distanza da Urbino, che è una città di patrimonio dell'UNESCO e che verrà sicuramente devastata da un progetto di questo tipo, anche a livello turistico, culturale e ambientale. È chiaro che bisogna cambiare la governance della gestione dei rifiuti, abbiamo assistito alla riconferma del Presidente di Marche Multiservizi da parte del Comune di Pesaro, non sappiamo come leggerlo, se è una conferma degli indirizzi che sono stati dati fino adesso o c'è stato un nuovo patto rispetto a una nuova visione. Noi vorremmo che Marche Multiservizi non desse la linea dei rifiuti in provincia, ma questo fosse un compito proprio della politica, delle istituzioni. Non ci illudiamo che tutto finisca qui, non hanno intenzione di ritirare il progetto e quindi in caso di bocciatura probabilmente presenteranno un ricorso e quindi la battaglia sarà ancora lunga. Devo anche sottolineare che da un punto di vista politico non c'è la volontà di cambiare le cose perché recentemente, due giorni fa, se non erro, il Sindaco di Pesaro che è il maggiore azionista di Marche Multiservizi ha riconfermato il presidente di Marche Multiservizi. Non mi sembra che chi ci rappresenta da un punto di vista politico sia in sintonia né con i territori né con i cittadini e tantomeno sia sulla stessa lunghezza d'onda di quello che serve. All'orizzonte c'è un'importante unione di intenti che si sta creando fra l'ente Parco San Bartolo e il vicino Parco del Conero per sperimentare una riorganizzazione interna del personale del lavoro finalizzata a rendere entrambi i parchi più efficaci e incisivi senza aumento dei costi di gestione mantenendo ciascuno la propria autonomia. Ieri infatti il consiglio direttivo del San Bartolo ha incaricato il presidente Silvano Leva di chiudere entro la fine del mese un accordo con il Parco del Conero per una collaborazione 360 gradi, il tutto con il benestare dello stesso Parco del Conero. L'accordo prevederà come primo passo la condivisione di un unico direttore con il quale andare poi a definire una riorganizzazione dei ruoli del lavoro estesa al personale di entrambi gli enti. L'idea di fondo è che ciascun ente manterrà la propria autonomia e i propri dipendenti i quali però collaboreranno tra loro, si scambieranno informazioni e documenti e si supporteranno nelle pratiche coordinati da un unico direttore individuato già in Marco Zannini, danni direttore del Parco del Conero. Ed ora parliamo di una rassegna culturale, parte infatti domani a Pesaro la seconda edizione di Incanto Short Film Festival, rassegna di cortometraggi d'autore quest'anno portata anche alle contaminazioni con poesia e musica. Dal 20 al 22 settembre torna a Pesaro Incanto Short Film Festival, rassegna dedicata ai cortometraggi d'autore indipendenti che dopo l'esperimento della prima edizione di un anno fa si ripropone con un bis arricchito di contaminazioni fra cinema, musica e poesia che spazieranno fra il Cinema Solaris, il Teatro Sperimentale, Palazzo Gradari e il Municipio Pesarese. Quest'anno il Festival alla seconda edizione sarà ricco di eventi, di intersezioni come ci piace chiamarle, sarà un festival sempre di cinema e di cortometraggi con delle collaborazioni sul mondo della poesia e della musica. Il Festival è incentrato anche quest'anno sul rapporto fondamentale tra il pubblico che speriamo possa fruire in maniera attiva di un'opera cinematografica vista sul grande schermo, quindi ci saranno approfondimenti e incontri con vari professionisti, attori, attrici dell'ambito cinema e quest'anno abbiamo l'onore di ospitare il maestro del cinema indipendente Franco Piavoli che verrà proprio sabato 21 alle 17.30 al Teatro Sperimentale a fare un incontro con il pubblico e soprattutto ci sarà la proiezione al mattino alle 10.30 del suo capolavoro che è Voci nel Tempo. Per la parte cinema, oltre appunto il maestro del cinema Franco Piavoli che citavi, abbiamo la presidente di giuria, l'attrice e regista Pilar Fogliati, abbiamo come ospiti l'attore Antonio Bannò e l'attore Enrico Borrello, ci sarà il regista Enrico Mariartale, oltre tanti ospiti che ancora in questi giorni diciamo probabilmente ci saranno anche altre sorprese. questo lo dico perché appunto per noi l'incontro e il dialogo col pubblico è un punto fondamentale, nel senso questo è un festival aperto in cui vogliamo portare i professionisti a dialogare con il pubblico, non è un festival di settore, è un festival in cui l'incontro e il dialogo con i professionisti e con gli attori, con i registri per noi è fondamentale. Gli appuntamenti speciali sono quelli legati alla visione della poesia e quelli legati alla visione e la musica. In particolare venerdì 20 il laboratorio della visione, un laboratorio stabile di visione poetica guidato da me, Olmo Calzolari e la poeta Franca Mancinelli, avrà i finalisti di un concorso nazionale a presentare le loro opere appunto finaliste per la prima volta presentate di fronte al pubblico e alla cittadinanza di Pesaro. La serata seguirà con un omaggio al poeta Franco Scataglini nel trentennale della scomparsa e un laboratorio in combinazione tra la visione cinematografica e quella poetica guidato da Franca Mancinelli e dalla regista Giulia Grandinetti. Il secondo appuntamento speciale è appunto quello che lega la musica e l'immagine legato all'associazione che coordina, coorganizzatrice del festival Anima Femmina con Frida Neri con eventi speciali quali delle performance legate alla musica e all'immagine cinematografica e un'altra in particolare sulle colonne sonore dei film. Già è la seconda manifestazione che facciamo da noi, siamo molto contenti di averle ospiti perché c'è tanta qualità e tante novità, quindi vi aspetto al Solaris. Davvero un grande onore, un grande prestigio per l'Istituto Santa Marta di Pesaro che è stato scelto per realizzare il pranzo in occasione della storica visita del principe Alberto II di Monaco alla cittadella della pace di Rondine in Toscana la scorsa domenica. Un momento di enorme prestigio per la scuola che ha saputo distinguersi grazie alla professionalità dei suoi studenti e docenti ricevendo apprezzamenti speciali da parte dello stesso principe. Invece il club nautico di Pesaro ha raggiunto un accordo con l'osteria della Peppa di Fano per la gestione del ristorante all'interno del circolo di strada tra i due porti a Pesaro. Il nuovo ristorante sarà infatti gestito dalla società di Martina e Mirco Carloni e sarà proprio un ex diplomato del Santa Marta come Gianluca Giovanelli il nuovo direttore della ristorazione del club. Soddisfatto il presidente del club nautico Francesco Galeppi per il nuovo corso del ristorante del club costituito 75 anni fa. E domani 20 settembre la Vitri Frigo Arena di Pesaro aprirà le porte dell'Aerobic Gymnastic World Age Group Competition. Una prima giornata di gare che sarà impreziosita dalla presenza nella mattinata di Milena Baldassarri ottava classificata alle Olimpiadi di Parigi nel concorso generale e di Sofia Raffaelli che invece è arrivata a ottenere la medaglia di bronzo alle stesse Olimpiadi. Le due atlete saranno accompagnate nell'occasione dalla loro allenatrice Claudia Mancinelli. Le due stelle della ginnastica saranno a disposizione per autografi e selfie con il pubblico presente e nel corso della cerimonia delizieranno il pubblico anche con una loro esibizione. E restando in tema di sport, domani alle 20.45 torna in campo anche la Vispesero per l'anticipo della quinta giornata della Serie C Girone B. I peseresi sfideranno la Ternana nel secondo match consecutivo in uno stadio Benelli il cui manto erboso sarà messo a dura prova dalle piogge di questi giorni ma che sarà comunque teatro dell'entusiasmo del tifo bianco-rosso che arriva dopo tre vittorie consecutive che hanno issato la Vis a quota 9 punti alle spalle delle sole capoliste a Pescara e Entella un punto più avanti. La Ternana insegue invece la Vis con due punti di ritardo. E invece mancano dieci giorni al via del campionato della VL che prosegue il suo avvicinamento alla stagione di Serie A2 presentando i suoi nuovi giocatori. Questa volta è stato il turno di Petrovic e De Laurentiis. Si avvicina allo start del campionato di Serie A2 e prosegue la passerella di presentazione dei volti nuovi che comporranno il lungo percorso della VL di Pino Sacripanti. A dare il gas nel vero senso della parola verso la prima palla 2 sono stati questa volta Quirino De Laurentiis e Danilo Petrovic che nella sede pesarese della Yamaha di NG Motorsport si sono presentati analizzando lo stato di crescita del gruppo in questa fase finale di precampionato. Siamo in un buon punto. L'ultimo torneo ci è servito secondo me molto per adeguare ancora un pochino le nostre cose che dobbiamo sistemare in campo. Siamo una squadra completamente nuova quindi ovvio che visto che non ci conosciamo ad esempio io non ho mai giocato con nessuno di questo gruppo quindi ho giocato contro ma insieme quindi sicuramente ci vuole un po' di tempo per conoscerci. Ci stiamo conoscendo giorno dopo giorno e secondo me ogni giorno che viene si fa qualcosa in più. secondo me siamo in un buon punto ci vuole un po' di pazienza però io sono molto contento di quello che stiamo facendo secondo me abbiamo un buon potenziale come squadra e ci vuole come già detto il tempo che tutto si sistema e che ci si perfezionano delle cose. Penso che in queste settimane si è visto di miglioramenti graduali settimana in settimana e non è facile perché comunque non saremo probabilmente pronti al 100% dall'inizio del campionato perché siamo una squadra nuova, tutto nuovo quindi non sarà facilissimo però ci stiamo lavorando molto bene e penso che si vedano le migliorie che abbiamo apportato nel nostro gioco così offensivo che difensivo. Anche nell'ultimo torneo abbiamo fatto secondo me due ottimi amichevoli sia Capellino che Pippo Scafati che è una categoria superiore comunque e rispetto al torneo della settimana prima contro Forlì secondo me abbiamo giocato molto molto meglio ora abbiamo queste ultime due partite dove poter mettere a posto le ultime cose e poi inizia il campionato, tante partite, poco tempo quindi poi le cose si sistemeranno partita dopo partita. Io sicuramente in questa squadra mi reputo come un specialista devo essere pronto in qualsiasi momento della partita ci saranno le partite dove giocherò meno, ci saranno le partite dove sicuramente giocherò di più e non sono un giocatore che guarda il minutaggio perché credo che anche in pochi minuti posso fare tanto e che ho le qualità di farlo quindi veramente mi concentro su ogni singolo momento e minuto che coach mi dà in campo e cerco di aiutare la squadra in qualsiasi momento della partita. Siamo quattro giocatori a disposizione della squadra non siamo egoisti secondo me ci sposiamo molto bene chi è per una caratteristica, chi è per un'altra ma anche chi ha, nel senso che abbiamo delle caratteristiche simili io penso che il basket ormai è cambiato tanto quindi non c'è più un giocatore che faccia una cosa e un altro che faccia un'altra ci sono tanti che possono fare tante cose come dicevo anche i primi giorni. Si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News subito dopo il Tg ancora sport con la seconda edizione di Pedagliamo con lo sponsor in bici con la BCC Pesaro appuntamento appunto alle ore 20 a seguire la nostra prima serata continua con il concerto Rock Opera in occasione della settimana da Capitale della Cultura di Tavuglia vedremo il nostro speciale realizzato appunto durante l'evento conclusivo della settimana scorsa e ancora alle 21.40 approfondimento sul Avis Donor Weekend 2024 che si è tenuto a Pesaro lo scorso fine settimana ci soffermeremo in questo speciale sul convegno tra sociale e digitale e poi amministrando che è andato in onda ieri ma che potrete rivedere anche questa sera in replica alle 22.30 stiamo conoscendo i nuovi sindaci usciti dall'ultima tornata elettorale di giugno questa volta ci sarà l'approfondimento con il comune di Montelabate e il suo nuovo sindaco Roberto Rossi intervistato dal nostro Luigi Benelli e poi vi aspetto domattina in diretta alle 7.20 con le notizie della rassegna stampa dei quotidiani locali buongiorno Rossini dunque appuntamento a domattina venerdì 20 settembre si chiude invece qui l'appuntamento con l'informazione di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi